Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video YouTube. Allora, in questo video vi porterò praticamente in una Death Girl Morning Routine, quindi in una di quelle routine che fanno tutte quelle ragazze super estetic, super death girl e ci proveremo insieme. Allora, iniziamo dalla colazione super super tattica e dopo la colazione, vabbè, ovviamente passo in bagno, quindi faccio skin care. La mia skin care, quella un po' più articolata diciamo così, è formata da, prima di tutto detergente, dopo detergente sono passata a una sorta di maschera viso. Poi ho lavo di denti, anche se questo non fa proprio super parte della skin care, però va bene così. La maschera praticamente era diventata un vero e proprio detergente con l'aggiunta dell'acqua e poi ho messo la crema, però oltre alla crema viso, in aggiunta praticamente a quest'ultima, sono andata a mettere una specie di cremina che andasse a evitare la formazione di pori. Ne ho messa veramente pochissima, soprattutto nella zona del naso e del mento, che secondo me sono quelle in cui si possono verificare effettivamente più pori. Allora, ho subito rifatto il letto, ho aperto la finestra, praticamente le tende e sono andata a fare effettivamente quello che è il primo step della giornata, ovvero la to-do list, quindi ho segnato praticamente tutte le cose che avrei dovuto fare durante quella giornata. Qua ho avuto anche un piccolo intervento da parte di Azzurra che mi è venuta a trovare e sono passata subito alla parte del workout. Ho fatto un primo allenamento di 10 minuti per gli addominali e un secondo per le gambe, quindi qui potete vedere la sabri che sta praticamente morendo, stavo crepando, anche qua è venuta Chanel, quindi diciamo che gli animali mi hanno fatto compagnia. Erano ormai le 8 di mattina e accompagnata da un po' di musica o dalla tecnica del pomodoro, magari per chi non la conoscesse ve la spiego in un video, sono andata praticamente a studiare, ho iniziato con diritto e ho proseguito con Geostoria. Anche qui devo dire che è stato un punto super super a favore di questa giornata, sicuramente un pro, e devo dire che è molto consigliato a studiare di prima mattina perché ho studiato molto di più. Ok, ho stessa la lavatrice e sono andata subito a farmi la doccia perché tra l'allenamento e tutte le attività fatte fino a quel momento diciamo che ero un bel po' scombussolata, quindi doccia fatta e poi mi sono preparata. E niente, praticamente mi sono truccata letteralmente, tra un video YouTube e l'altro, un po' di musica, sono andata a prepararmi per bene. Qui potete vedere una sabri che dopo essersi praticamente preparata è andata a sistemare tutti i fogli perché letteralmente ero piena di fogli inutili, senza senso, quindi sono andata a sistemare anche la camera e i fogli che la riempivano totalmente. Ho asciugato i capelli e l'ho fatto tutto con un bel video YouTube di sottofondo. Poi ho deciso di scendere e scendere giù, che è una cosa che faccio veramente pochissimo spesso, dato che non ho tanto tempo durante l'inverno soprattutto, in generale nel periodo scolastico, quindi visto che avevo praticamente del tempo a disposizione, l'ho portata un po' giù in garage, dato che pioveva, però almeno ha fatto un po' di movimento. I servizi non finiscono mai, quindi ho anche spazzato appena sono tornata sopra e ho messo la tavola per poi mangiare. Quando sono rientrati tutti dal lavoro abbiamo mangiato, ma secondo me questa routine può concludersi qua. Grazie mille a tutti per averla vista e guardata perché a me è piaciuto un sacco registrarla e spero anche a voi guardarla. Grazie mille a tutti per aver guardato il video.